Allora raga, prima che inizi il video, siamo dentro, rivediamo il trailer e tutto quanto, ma ci sono un po' di bug, quindi a un certo punto il pass battaglia ve lo faccio rivedere tutto quanto, sono riuscito alla fine a shopparlo, alla fine sono riuscito a shopparlo tutto quanto, però vi volevo avvisare che ovviamente vi aspetto poi in live su Twitch, perché saremo tutta la sera in live su Twitch per provare la nuova mappa, per provare le nuove cose, tutte le novità, ovviamente trovate il link in descrizione per venirmi a seguire, anche nei prossimi giorni usciranno una marea di video e saremo tantissimo in live. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se questo è fatto, lasciando un bel mi piace, vi ricordo sempre il codice creatore GGY, tutto grande, tutto attaccato, ora vi auguro una buona visione. Ok raga, ci siamo, inizia il capitolo successivo. Mida? Mida, tutto ok? Signor Mida? Com'è? Che succede? Dai. Attenzione. Raga, è Mida perché io ho la skin di Mida, eh. Non perché sia Mida qui. Lo, lo, precisiamolo subito. Raga, quanto fa figo aver fatto tutto ciò con Mida? Che adesso sembra che davvero c'è Mida che sta tornando. Fichissimo. Mi ha laggato tutto, non ho capito perché. Ah, mi posso muovere? Ma non mi corre il personaggio. Non posso correre. Vabbè, giustamente dopo tutti, dopo tutto sto tempo in acqua. Cosa sta succedendo? Ci sono un po' di, un po' di... Ciao? Non ci posso parlare. Ah. Eh beh, ragazzi, su un'isola... Ah, siamo su un'isola deserta, tipo. Ok. Siediti. Ok. Credo di dovervi una spiegazione. Vai, spiegaci tutto. Negli ultimi anni ne abbiamo passate tante. Ci sono altre cose che non ricordate neppure. Ok. Avete tutti combattuto con coraggio, ma finché non libereremo il punto zero, ci saranno sempre minacce come l'ultima realtà. Ok, le droghe. Non potremo sfuggire. Ecco perché dovete aiutarmi a distruggere l'ordine immaginario. Vai. Finché continueranno a sfruttare il punto zero, tutto sarà in pericolo. Con il vostro aiuto potremo liberarci da questo posto e lasciare il lupo per sempre. Dai. Andremo a casa. Attenzione. Ecco la mappa! Ah, ma bella, eh? Bella. La statua di fondazione. Bello così! Che figata! Che figata! Dai, però adesso fatemi shoppare tutto il pass. Dai, forza. Oh, ho visto qualcosa? Attenzione. Ah, vabbè, i trailer. Vabbè, ce li rivediamo. Ce li rivediamo. Statuona gigantesca di fondazione. Belle ste case, ragazzi. Case moderne per noi, eh? Bello, bello. Spider-Man e let's go. Crew di Fortnite. Battaglia, battaglia. Mi sa esserlo sbagliato. Io vorrei non scrivere pass battaglia. Riscatta. Oh, che bella questa immagine, ragazzi. Vai, riscatta. Eccomi. Ok. Oh, raga, ovviamente adesso andremo a shoppare tutto quanto. Eccoci qui. Siamo nella schermata. Che bella, raga, con la statua di fondazione qui. Trova la tua modalità. Ah, vabbè, poi andremo un attimino a vedere. Oggi mi volevo concentrare più che altro sullo shoppare il pass. Attenzione, qui c'è uno Spider-Man nero. Fantastico. Ovviamente, ragazzi, io come al solito vi ricordo che potete supportarmi nel negozio oggetti di Fortnite. Col mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato. Ovviamente nel caso in cui vi carichi il negozio oggetti. Perché se non ve lo dovesse caricare è un bel problema. Ok, tutto carica tra... Ok, mi sta caricando anche il PC. Stanno succedendo cose, ragazzi. Non lo vedo molto preparato, Fortnite, per questo capitolo 3. Ma a questo punto, ragazzi, io direi... Andiamo ad acquistare i livelli, ragazzi. 13.000 V-Bucks. 13.100 V-Bucks. Acquista livelli. E let's go, ragazzi. Me l'ha acquistati? Scusa? Non me l'ha acquistati? Eh, non vogliono i miei soldi! No, 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 non sono un livello. Ma... ma... Non sto capendo. Ah, mi ha dato la prima skin del pass. Quindi, comunque, il pass ce l'abbiamo perché, appunto... Ah! Ok, adesso si è caricato pure il negozio. Qualcosa è andato storto. Vabbè, sta caricando cose, Fortnite. Raga, ovviamente, sta implodendo tutto. Dunque, vi ricordo, appunto, il codice creatore. GGY, tutto, grande, tutto attaccato. Pagina sbloccata, 8. Vabbè, ci fai capire qualcosa? Vabbè. Allora, nuovo stile a fionda. Va bene. Oh, mi ha dato le 375 stelle. Ma io non ho shoppato i 550. Non lo so. Vabbè, adesso andiamo a vedere tutto con calma. Ora ci darà... Non mi dire che ti blocchi così. Niente, non si sbaga da qui. Si può uscire in qualche modo. Oh, basta. Ah, facciamo equipaggia. Vai, equipaggiamo. Equipaggiamo. Vai. Non mi puoi bloccare qui. No, ragazzi. Oh, ok. Pare si sia sbloccato. Pare si sia sbloccato. C'abbiamo 385 stelle. Però io non so se ne posso... Se ne devo shoppare ancora altre. Eh, sì. Ne devo shoppare ancora altre. Sì, ma dammeli. Ma no. Dunque, stiamo a vedere lo shop. Perché qui dobbiamo prendere ancora questa. Ma tanto si buggerà, ovviamente, come tutto il resto. No, non me la sta facendo neanche acquistare. Comunque, ovviamente, ribadisco. Vedete? Il codice creatore GGY. Non è tutto grande, tutto attaccato. Ma vabbè. Allora, regà. Nel negozio oggetti, carica o non carica, quella schermata di caricamento non me la vuole dare. Cioè, si è completamente buggato tutto, ragazzi. Però mi ha dato le stelle. Dovrei avere tutte le stelle per shoppare tutto il pass. Ok? Quindi io adesso farò così. Andrò in fondo. Ok? E farò riscatta tutte le pagine. Ok? Riscatta tutte le ricompense. Ora, rimarremo nel loop del pass. Battaglia, probabilmente. O probabilmente non me le calcolerà più il riscatto delle ricompense. Però vediamo un pochettino quello che succede. Non è il lama che stai cercando. Ah, infatti non me l'ha riscattati. Ma io però voglio riscattarli. Fortnite. Che vuol dire qualcosa è andato storto? Please, Fortnite, prenditi le mie stelline. Dai, fammi shoppare, per favore. Fammi shoppare, per favore. Voglio shoppare tutto. Dai, ti prego. Allora, provo a shopparne uno. Provo a shopparne una di pagina. Vediamo se shoppando pagina per pagina va. Ma io credo di no, ragazzi. Io credo che se non si è andato con tutte non va neanche così. Ovviamente. Ma era ovvio. Se shoppiamo pezzo per pezzo, forse pezzo per pezzo va. Non lo so. No, ragazzi. Ovviamente non va. Niente, raga. Allora, facciamo così. Allora, intanto ci vediamo tutto il pass. Vediamo quello che c'è all'interno del pass. Nelle varie soglie, eccetera, eccetera. Io tanto le stelle per shoppare tutto ce l'ho. Nel dubbio sposto la cam perché vedrete tutto qui a sinistra... A destra, scusate. E c'è la mia cam davanti. Quindi, per esempio, facciamo una cosa del genere. Ma no, facciamo una cosa di questo tipo, invece. Più qui in basso a sinistra, direi. In basso a destra. Oggi ho problemi con destra a sinistra. Allora, allora, allora. Ribadisco. Noi le stelle per shoppare tutto le abbiamo. Quindi poi andremo a shoppare tutto quanto. Ma evidentemente Fortnite non me lo vuole far shoppare. Allora, la scia che è molto carina. L'altra skin, questa qui, ci può stare. Ci sta, ragazzi. Schermata di caricamento molto figa. È ovviamente quella di questa skin che evidentemente poi c'ha altri stili. Standardo. V-Bucks. Scimitarre di bronzo. Spero di aver pronunciato bene il loro nome. Ok. Carino, ma non troppo, sto deltaplano. Poi abbiamo uno spray. E questo qui che ha un dorso decorativo, ma io odio i dorsi decorativi. Poi abbiamo questo balletto. Molto carino. Molto carino. Ok. Altri V-Bucks. Lama della luna calante. Della luna calante. Demon Slayer reference. Va bene. Va bene. Poi, schermata di caricamento. Poi abbiamo... Uh, carina questa qui come copertura. Poi abbiamo lo stile di Ronin. Ok. Perfetto. Ci sta... Perché mi fa rivedere lei? Scusate. Volevo vedere lo stile di Ronin. Oh, vabbè. Si è puggato tutto. Non mi fa vedere quello che voglio vedere. Eccolo. Eccolo di nuovo. Poi abbiamo... Questo che cos'è? Ah, un dorso. Che non mi piace. Troppissimo. Altro deltaplano. La mezzaluna volante. Ok. V-Bucks. Altro spray. Va bene. Poi abbiamo copertura. Questo che è? Ma le bolle. Sta in ginocchio. Carino. Poi la scia. Molto bella. Dorso decorativo. Carino. Però sto coso... Ah, no. Che è solo col mantello. Ah, c'ha lo stile. C'ha lo stile. Boh, vabbè. Ok. Poi emoticon. Poi abbiamo un altro dorso decorativo. Schermata di caricamento. V-Bucks. Standardo. Ecco questa qui. La skin del lama che si vede poi tra l'altro anche nei vari trailer, eccetera, eccetera. Tenente John Lama, penso. Quel ten penso sia per tenente. Poi abbiamo un po' di robetta sempre del lama con questo stile. Ok. Semplicemente cambia colore e c'ha la benda sull'occhio. Però mi sa che anche l'altro c'ha la benda sull'occhio. Non l'ho vista prima. Sì, esatto. Ok. Schermata di caricamento. Che va un po' a rappresentare la mappa attuale. Vabbè. Guardate qui, ma vabbè. Poi andremo a vedere. V-Bucks. Altro deltaplano. V-Bucks. Strumento di raccolta. Altra copertura. Tante coperture ce stanno. E-Moticon. Ballettino. 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 Ballettino che disegna. Ma poi ci fa vedere il disegno? Sì, il cuoricino. Ok. Come va. Si vedeva anche qui. Quindi, ok. Poi abbiamo la musica. Abbiamo il forziere del bestiario. Va bene. Altro stile per Ronin. Molto figo così. Poi abbiamo Stendardo. Spray. La copertura. V-Bucks. Schermata di caricamento. E lo strumento di raccolta. E questa skin Aven. Si chiama. Carina. Con lo stile che c'ha la maschera. Ci sa. Ah, c'è anche quest'altro stile. Col cappellino. Poi abbiamo quest'altra skin. Gumbo. Gumbo. Ok. Dorso decorativo per Gumbo. V-Bucks. Strumento di raccolta. Mastino di gomma. Carina. Bella la schermata di caricamento, regà. Molto bella sta schermata di caricamento. Mwahahahaha. Ok. Va bene. V-Bucks. Schia. Ok. E abbiamo lo spray. Poi. Poi. Attenzione. Altro stile per Gumbo. Gumbo amaro. Poi abbiamo una musichina. Va bene. Un botto di... Ripetisco. Un botto di coperture. V-Bucks. Emoticon. Tra l'altro Emoticon che è a sua volta anche animata. Schermata di caricamento. No. Non mi dire se è buggato l'Emoticon. Oddio. Regà questo è Gumbo. Che ansia. Vediamo. Dolciumi per la mente. Emo diventa cattivo? No. Ah. Così. È carino. Vabbè. Ci sta. Dai. Ci sta. Vabbè. Continua. Vabbè. Continua lui. Stendardo. Il deltaplano. Bablun. E poi lo spray in vista. Dopodiché abbiamo. Stile. Altro stile per Ronin. Col mantello. V-Bucks. Dorso decorativo. V-Bucks. Una mazza. Mazza ferrata. Strumento di raccolto. Ovviamente deltaplano. Uh. Carino così con questo stile. Oh no. Non è uno stile. Non è quello di prima. Non è quella di prima. No. Mi sa. Non è quella di prima. Ok. Poi abbiamo. Emoticon. C'è un'altra skin questa comunque. Quindi a sto punto. Shia. Molto carina. Boh. Non lo so. Non mi fa impazzire. Schermai di caricamento. Molto bella. E poi ragazzi. E poi arriviamo a lui. Al signor Spider-Man. Eh ragazzi. Spider-Man. Tanta roba. Altro stile per la skin di prima. Musicotta. Uh. La scia regà. La scia con. La ragnatela. Oddio. Lo zainetto di Spider-Man. Che esce fuori la sua maschera. No regà. Il meme. Il meme di Spider-Man. Regà. Il meme di Spider-Man. Oddio. Il meme di Spider-Man. Schermai caricamento. V-Bucks. Emoticon. Carina. St'emoticon. Con lo standard del uomo ragno. Poi regà. Spider-Man tuta del simbionte. Bellissima. Schermata di caricamento per Spider-Man. Il piccone di Spider-Man. La ragnatela. Randellante. Spray. V-Bucks. Delta plano. Eh. A me adesso l'ha fatta scioppare. Allora adesso lo scioppo tutto. Poi abbiamo. Bella. Però dove si attacca. Se tipo non c'è nulla sopra. La dobbiamo provare questa. Va bene. Va bene. V-Bucks. E la copertura. Molto belle le cose di Spider-Man. Riproviamo a scioppare tutto. Vediamo che succede. No. A me continua a non farlo scioppare. Ma perché non me lo fa scioppare? Regà. Proviamo pagina per pagina a sto punto. No. Neanche pagina per pagina. Ma non me li vuole far scioppare. Non me li vuole far scioppare ragazzi. Cioè. Mi sono messo qui. Le ho scioppate tutte. Ma non mi vuole far scioppare niente. Vabbè. Comunque. Poi ragazzi. Abbiamo la parte di fondazione qui. Che sarà. È in arrivo tra 60 giorni. Quindi poi fondazione sarà la skin. Segreta del pass. Diciamo. Bello il suo piccone. Molto interessante. Poi andremo a vedere i vari stili. Che probabilmente sarà lo stile senza maschera. Suppongo di sì. Poi abbiamo le ricompense bonus. Bella regassa skin di Spider-Man. Spettacolare. Poi alcune che sono ancora sconosciute. Ignote. Poi vabbè. La crew. E le maschere di Eve. Ah. Le maschere di Aven. Qui poi saranno disponibili. Regà. Ci riprovo l'ultima volta. Io comunque ragazzi. Ovviamente lo vado a scioppare tutto. Nel senso che. Non me lo vuole far scioppare Fortnite. Io ragazzi. Le stelle però le ho già prese. Ma mai pure tolto JV Bucks. Mannaggia la miseria. Ma mi vuoi dare tutta sta roba? Niente ragazzi. Niente. Vabbè regà. Allora il pass l'abbiamo visto. Comunque lo andrò a scioppare. Perché le stelle le ho già scioppate. Le ho prese. Nei prossimi video. Ovviamente. Andremo anche a giocare. A provare la mappa. Regà. Perché. Cioè. Qui ragazzi. Cioè. Vabbè. Ci sentiremo male. Quindi mi raccomando. Ragazzoli. Iscrivetevi al canale. Se questo è fatto. Vi ricordo il codice creatore. GGYT. Tutto grande. Tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite. Se ve lo carica. Mi raccomando ragazzi. Davvero fondamentale. Cambiamento di stato. Connessione. Ripristino della connessione. Ma riusciremo a giocare secondo voi. Non lo so regà. Mi raccomando. Un bel mi piace. Tra l'altro appunto. Ma come siamo già a livello 100. Me l'ha scioppato. Mo me l'ha scioppato. Me l'ha scioppato adesso regà. Me l'ha scioppato tutto adesso. Ma non me l'ha fatto neanche godere. Vabbè. Vabbè. La cosa importante è che ce l'abbiamo ragazzi. Niente. Vabbè. Per me è tutto. Ci troviamo nei prossimi video. Già stasera. Penso faremo altri video. Domani. Sono un po' deluso. Sono un po' deluso. Ciao ragazzi. A dopo. Ah. E vi aspetto in live su Twitch. Mi raccomando. Tra il link in descrizione. Perché saremo tutta la sera del live su Twitch. E ovviamente. Anche i prossimi giorni. Quindi vi aspetto. Ciao ragazzi.